eccomi ragazzi e ragazze mi chiamo gabriosta e visto che io sono un youtuber datemi a sentire parliamo seriamente adesso è il momento di fare il sesto livello di crash bandicoot 2 cortex tri e sbac dobbiamo fare questo sesto livello per vincere la sesta reliquia ma bisogna fare in fretta dobbiamo sbrigarci facciamo la nostra corsa contro il tempo non mi piace il ghiacciaio perché si scivola ho sempre paura di scivolare poi ci sono anche le stalattiti forza proseguiamo non bisogna commettere errori perché sennò ci toccaremmo il ciardo a capo e poi mio fratello non ha paura di scivolare dico che neanche mio fratello ha paura di scivolare ho detto che nemmeno mio fratello scivola io invece scivolo nei livelli ho detto che io scivolo abbiamo vinto una reliquia dorata spettacolare bellissima che ora non ce la toglie nessuno bene ora è il momento di salutarci vi saluto spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale cliccate su mi piace dovete non dividerlo questo video e poi ricordatevi che io lo faccio a tutti i bambini visto che amano crash bandit questo crash bandit lo faccio sia per gli adulti che per i bambini quindi possiamo Grazie.